ciao a tutti ragazzi e bentornati su nairclub io sono ghela oggi vorrei fare un po con voi una chiacchierata anche perché quando si parla di alcuni temi qui su youtube spesso la gente si infervora insomma partono anche parole pesanti nascono video video risposta live insomma si complicano un po le cose però nessuno alla fine va a spiegare veramente come funzionano le cose e soprattutto quali siano i numeri che veramente hanno un valore vorrei provare quindi a farvi capire un po come funziona il meccanismo youtube questa grande macchina e quali dati realmente andare analizzare per capire se un canale sta funzionando o meno ma non tanto per ergersi a giudici dei canali presenti su questa piattaforma e dire quale canale o no dovrà poi morire per questo un altro termine che si sente tantissimo ma in un certo senso anche per apprendere una cosa fondamentale che è l'analisi dei dati sebbene tantissime persone qui su youtube ma anche nel web in generale un po tentano di farlo sebbene non abbiano alcuna competenza devo fare però una doverosa premessa sto parlando di dati oggettivi e non soggettivi perché ovvio che è un canale che vi intrattiene vi fa divertire vi fa passare del tempo è un bel canale per voi quindi non ve ne fregherà mai nulla delle visualizzazioni che farà del numero di iscritti che ha ma anzi magari vi verrà voglia di aiutarlo condividendo i video tutti fanno i professoroni su questa piattaforma lo sappiamo bene a partire dagli utenti che ritengono di poter analizzare il successo meno di un canale a partire dai numeri che loro vedono però i numeri pubblici sono veramente pochi lasciamo fuori social blade che non c'entra nulla teniamo quelli proprio visibili su youtube beh gli utenti possono vedere soltanto il numero di iscritti il numero di visualizzazioni i commenti che ci sono di sotto di un video i mi piace e i non mi piace però qual è l'errore più grosso che fa l'utenza normalmente beh analizzare soltanto il numero di iscritti e le visualizzazioni partiamo dal numero di iscritti e quello che fa sicuramente felici tutti noi creatori di contenuti perché più aumenta quel numero e più insomma ci sentiamo anche gratificati però a livello un po dell'analisi diciamo del funzionamento del nostro canale del successo o meno del nostro canale beh conta poco perché l'iscritto è colui che magari vede un video apprezza quel video è un po diciamo per premiare lo youtuber di turno si iscrive e molto probabilmente non ha visto nemmeno gli altri video quindi non è detto nemmeno che tornerà un giorno a guardarli forse sì forse no insomma non lo possiamo sapere oltretutto sono persone che si sono iscritte nell'arco di magari lungo tempo noi siamo qui ad esempio da due anni e siamo arrivati adesso intorno ai 14.000 i pass iscritti quindi i primi primissimi che sono iscritti magari il 20 30 per cento ci segue ancora forse gli altri non più magari vengono a trovarci soltanto qualche volta seguono delle live insomma non lo possiamo sapere ed è per questo che quel dato è relativamente importante diciamo che più una cosa di facciata il secondo dato che analizzano in contemporanea con il numero di iscritti sono sempre le visualizzazioni beh anche qui ho qualcosa da dire ovvio che se vediamo un canale che ha magari 500.000 iscritti e fa più di 600 700.000 visualizzazioni a video nell'arco di 1-2 settimane beh quel canale di successo c'è poco da dire oggettiva come cosa però diciamo che in media il rapporto tra iscritti e visualizzazioni su youtube sia stessa tra l'8 e il 10 per cento se riuscite a stare su queste cifre o anche di più beh vuol dire che state andando veramente bene quando ci troviamo in questa situazione dove abbiamo un canale con tantissimi iscritti ma poche visualizzazioni bisogna forse farsi anche altre domande non soffermarsi solo esclusivamente a quelle informazioni perché vorrebbe dire essere veramente superficiali considerate una cosa i video che vengono caricati come questo in questo momento non faranno tantissime visualizzazioni per le prime settimane però potrebbero farle poi nel tempo un esempio classico che faccio sempre qui sul nostro canale beh perché è comunque quello che ha visto più visualizzazioni durante tutto il suo periodo è stato il video per registrare o meglio scusate per fare le live con obs quando ho creato quel video quel tutorial le visualizzazioni sono state abbastanza basse il primo giorno forse ne ha fatte 200 poi ne ha messe altre 30 40 50 al giorno non di più adesso però risulta essere il video più visto in assoluto ma non perché giorno dopo giorno abbia acquisito soltanto quelle 30 40 visualizzazioni ma perché a un certo punto youtube l'ha considerato probabilmente meritevole di essere posizionato all'interno dei correlati di altri video o quant'altro e ha fatto un botto notevole passando a circa 2 3 mila visualizzazioni al giorno e nella settimana passata vi posso dire che quel video ha fatto 7 mila visualizzazioni come potete vedere non importa il numero di visualizzazioni che fanno gli ultimi video caricati da un canale perché perché spesso sono un po come un motore diesel hanno bisogno insomma di carburare un po in passato le cose erano leggermente diverse parliamo di 3 4 anni fa o più e un creatore quando caricava un video si vedeva arrivare veramente tantissime visualizzazioni nei primi giorni nelle prime settimane e poi piano piano andava a scemare veniva visualizzato sempre costantemente guadagna visualizzazioni giorno dopo giorno tranquillamente adesso magari hanno anche centinaia e centinaia di migliaia di visualizzazioni totali ora molte attribuiscono questo caldo di visualizzazioni a cose come i feed oppure problemi di youtube o l'algoritmo di youtube famoso algoritmo che nessuno sa cos'è ma tutti citano beh ci sono sicuramente dei piccoli problemi tecnici su youtube lo sappiamo tutti youtube stessa la sa ma è normale con una macchina così grande e potente e con così tanti video e creatori insomma diventa anche difficile da gestire di conseguenza è normale che ci possano essere dei bug ma piano piano verranno risolti la verità in realtà è un'altra con andare del tempo non solo sono aumentati gli utenti che visualizzano quindi video ma anche i creatori di contenuti quindi diciamo che l'interesse anche da parte del singolo utente si deve un po come dire spalmare su tutti gli youtuber che segue e magari sono centinaia potete tranquillamente vedere la vostra home page di youtube e quanti video vengono caricati ogni singolo giorno potreste essere anche super appassionati di 5 6 canali nello specifico però non è detto che siate interessati a qualsiasi video che quel canale andrà a caricare di conseguenza lui perderà visualizzazioni magari tornerete un altro giorno e quindi guadagnerà altre visualizzazioni insomma è un meccanismo continuo quindi all'inizio i più fedeli o forse quelli che sono più interessati proprio a quel settore e a quel tipo di video beh vi seguirà subito quindi le prime visualizzazioni arriveranno relativamente velocemente poi normalmente andranno un po calare ma è una cosa fisiologica il video entrerà nel sistema piano piano verrà messo anche tra i correlati verrà condiviso dagli utenti stessi e potrebbe a un certo punto riguadagnare una certa importanza se dovesse farvi anche in questo caso un esempio pratico settimana scorsa ho caricato tre video hanno fatto in media 4.000 4.500 visualizzazioni l'uno giusto per arrotondare diciamo che abbiamo fatto 13.000 visualizzazioni beh in realtà quella settimana ne abbiamo fatte 62.000 di visualizzazioni come vedete non contano solo esclusivamente gli ultimi video quelli sicuramente danno una piccola spinta settimanale o comunque per i giorni a venire ma in realtà tutti i video che vengono caricati precedentemente sono la parte fondamentale youtube stessa nelle linee guida consiglia di andare sempre a riproporre sui social quindi su facebook instagram twitter e quant'altro i vecchi video perché sono effettivamente quelli che circolano da più tempo sulla piattaforma e quindi possono darvi veramente una spinta in più quindi non abbattetevi se gli ultimi video magari non vanno benissimo da un lato potrebbe essere anche solo un periodo perché youtube va molto a periodi rispetto anche alle vacanze e quant'altro e 2 potrebbe essere anche quella tipologia di video non fa impazzire la vostra utenza avete quindi tutto il tempo per poter rimediare ora quello che conta però è anche vedere le interazioni che un video ha su youtube e per interazione si intendono commenti e i voti che possano essere positivi o negativi non importa per youtube qui non c'è assolutamente differenza e sono proprio le interazioni che permetteranno a un vostro video diventare più o meno di successo diventare più o meno virale per così dire perché youtube premia questo fate conto di una cosa ogni volta che voi andrete a caricare un video il vostro video sarà presente nelle ricerche globali per circa un'ora non di più passata questa ora se andrete poi a ricercare di nuovo per parole chiave il vostro video probabilmente non lo troverete nella lista della ricerca neanche dopo pagine e pagine questo perché il sistema va a premiare i video con più interazioni quindi vi troverete al primo posto durante la ricerca tutti quei video che hanno avuto tanti commenti tanti voti positivi negativi e quant'altro diciamo una commissione dei vari dati e delle varie informazioni che vi sto dicendo in questo momento quando vi capiterà quindi di vedere un canale con molti iscritti ma poche visualizzazioni su un ultimo video caricato andate a vedere i commenti perché se vi troverete 100 200 commenti e poi le relative anche risposte da parte del creatore stesso beh quel canale in realtà è di successo non è un canale morente di contro invece se vi trovate un canale con tanti iscritti pochissime visualizzazioni e poche decine di commenti se non meno aia forse in quel caso il creatore di contenuti sta sbagliando qualcosa forse non sta incentivando abbastanza i propri iscritti a interagire con lui e con la community in generale come vedete analizzare da esterni un canale youtube è una cosa complessissima perché si hanno veramente pochi dati per farlo abbiamo visto il numero di iscritti visualizzazioni mi piace non mi piace commenti e basta ovviamente noi creatori poi dietro abbiamo tante altre informazioni date dal google analytics che insomma ci permettono anche di capire tante altre cose e migliorarci giorno dopo giorno vi consiglio quindi una cosa se veramente siete tra quelli che vogliono a tutti i costi giudicare un canale per i suoi numeri beh fatelo con coscienza fatelo capendo veramente quello che avete davanti perché non è pura matematica dove il numero più grande vince non è assolutamente così riprendendo un po il titolo di questo video bei numeri veramente contano tantissimo ma contano tanto non per determinare la qualità di un canale agli occhi degli utenti perché gli utenti vogliono essere intrattenuti vogliono soltanto divertirsi ed è questo l'aspetto principale a loro in teoria in teoria dico non dovrebbe assolutamente interessare non dovrebbe interessare quanti iscritti hanno quanti visualizzazioni dovrebbero solo guardare quel contenuto se piace magari commentarlo lasciare un voto però non dovrebbero assolutamente interessarsi ad altro però questo immenso carrozzone che youtube è diventato anche qualcos'altro è diventato sponsor partnership manager insomma è qualcosa di molto più importante è effettivamente business e sappiamo come nel business i numeri continuo veramente tantissimo però mi raccomando occhio a quello che vi ho detto prima perché non sarà soltanto avere 100 200 300 mila iscritti a farvi diventare chissà chi o farvi vedere in maniera totalmente diversa agli occhi dei vari possibili finanziatori non è così perché adesso anche loro stanno imparando questo sistema e stanno imparando a capire effettivamente chi vale o chi non vale su youtube o meglio chi riuscirà a dare a loro un servizio utile sia per le vendite di servizi o prodotti sia per promuovere qualcosa qualora foste quindi in possesso di un canale mi raccomando concentratevi tantissimo sull'interazione con i vostri utenti che non vuol dire soltanto richiedere l'omosinare mi piace non è questo è renderli partecipi perché più partecipi saranno più condivideranno il video più commenteranno e quindi più creeranno discussione sotto ogni singolo video e queste cose vi faranno crescere vi faranno notare vi faranno finire nelle ricerche ai primi posti e anche nei correlati rispetto agli altri video se siete dall'altra parte quindi siete degli utenti beh fregatevene di tutte queste cose i numeri per voi non contano fate sì che coloro che hanno la vostra stessa passione possano divertirsi con quei video possano a loro volta quindi commentare discutere lasciare un voto mi piace un non mi piace insomma tutto fa brodo beh ragazzi io spero che questo video vi sia stato utile soprattutto a capire un po' questo meccanismo e quali numeri veramente continuo qui su youtube vorrei poi veramente sapere cosa ne pensate di tutto questo meccanismo se vi ritrovate un po' in questo sistema di numeri oppure ve ne fregate totalmente anche perché più commenterete più questo video salirà nelle classifiche nelle ricerche e anche nei correlati vabbè scherzi a parte ci tengo realmente a sapere la vostra vi ricordo che potete trovarci anche su facebook su twitter e soprattutto su instagram e trovate tutti i contatti qui sotto in descrizione come sempre se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollicione in su iscrivetevi al canale e noi ci vediamo sicuramente con un prossimo video a presto